bella 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 amici miei ragazzi e ragazze benvenuti nell'art book di sifu voglio farvi un breve video con le immagini della deluxe addiction di sifu the art of sifu eh sì quando si invecchia si diventa coi capelli bianchi ragazza l'ho cominciato come col bambino ma voglio anche farlo con con lei bellissimi sti disegni ragazzi che sono i cinque cattivoni la droga ecco qua i cattivoni le immagini della sì qui qui sì l'erborista sì sì questo l'ho fatto nella live eccolo qua bellissimo ragazzi guardali qui con il buio madonna che bello questi sono i disegni che loro fanno per poi realizzare il gioco molto bello faccio un po veloce ragazzi per farvi vedere tutti i disegni dell'art book che è compresa nella deluxe edition che qui è anche un po un piccolo spoiler dei posti dove andremo a vedere in game e nelle live io ho cominciato la mia prima partita e sono arrivato eccolo qua il medaglione che figata e sono l'albero dei potenziamenti ah guarda anche l'albero che figo bello 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 sto art book mi è piaciuto sono arrivato a 75 anni la mia prima partita e sono morto ok ragazzi da marco drums games channel sifu art book è tutto vi invito a vedere il mio canale su youtube e twitch marco drums games la mia pagina facebook la twitter la tui la tic toc instagram e facebook twitter instagram tito e twitch non è che ce ne sono tante altre poi discord e pinta resto ma non li uso tanto quindi vi invito a mettere la campanellina così vi avvisa quando ci sono le mie live mettermi piace e commentate per vedere quello che volete nuovi giochi giochi vecchi informazioni sui platini trofei tutorial e tutte le domande che voi volete chiedermi volete farmi io con calma risponderò a tutti da marco drums games channel è tutto sifu day one edition art book a presto ragazzi mitici e mitiche una buona continuazione a presto a presto